Foglia Manzillo deve fare la conta di quelli disponibili minata da infortunie squalifiche per poter schierare domani poveriggio contro la Re Canatese, una valida formazione. L'infortunio corso a Del Duca martedì scorso terrà il difensore fuori dall'anticipo di Selvapiana, quasi sicuramente. L'entità reale della situazione verrà valutata quest'oggi, improbabile che Del Duca possa essere in campo difesa, territorio decimato per il campo basso. Anche Bisceglia ha subito un piccolo intervento alla schiena la scorsa settimana, a breve un suo ritorno nei ranghi. Davvero sfortunato Marzano a procurarsi una distorsione di primo grado al 96esimo della sfida ultima contro il Castelfidardo. Questi i tre out con certezza o quasi, mentre sul fronte più positivo, cioè quello dei rientri, ecco Augustus Carbò che sarà bravo a stringere i denti, menna ed amabile, ormai fuori dallo stato influenzale patito in settimana, potrebbero essere a disposizione. In porta andrà Landi, la linea difensiva dovrebbe prevedere Benvenga, Gomez e Bolzan, dunque interamente senior da rintracciare altri tre fuori quota tra questi elefante come quinto di sinistra, centrocampo e amabile proprio nel reparto mediano. Questo vedrà le presenze anche di Danucci e Gerardi, mentre più allargato si candida ad una maglia dal primo minuto del prete insidiato da Salim Ribeiro. Attacco scontato con Balistreri ed Augustus Carbò che proveranno a rendere la vita difficile alla re canatese. I marchigiani, allenati da Alessandrini, scenderanno a Selvapiana con un 4-3-1-2 nel quale il portiere classe 98 Stefanelli dovrebbe tornare nelle vesti di primo estremo difensore a scapito del collega Piangerelli che ha giocato le ultime tre consecutive, compresa quella contro l'Olimpia Agnonese. La re canatese ha rivisitato in maniera robusta l'organico. Dopo il girone di andata ecco a re canati l'esperto difensore Nodari, il centrocampista Lunardini, il trequartista Guida e le punte, Falomi e Pera. Questi i pezzi da 90 che hanno illuminato il mercato dei giallorossi e che stanno aiutando i marchigiani ad uscire dalla bassa classifica dopo un girone di andata. A dir poco misero infatto di punti. Campobasso re canatese si potrebbe inquadrare come uno snodo chiave per entrambe le squadre. Poco o nulla ci farebbero le due formazioni con un risultato di parità. Il Campobasso deve tenere la scia del quinto posto. La re canatese deve cercare di risalire posizioni nella griglia play out dove è proprio l'Olimpia Agnonese attualmente a godere di discreta salute. Seguiremo in presa diretta l'incontro fra Campobasso e re canatese prima con un intervento nel corso del nostro Tg Sport poi con una trasmissione speciale di a tutto campo dedicata esclusivamente all'anticipo fra i Rosso Blu e di Marchigiani. A Selvapiana a partire dalle ore 14 e 30 la sfida in questione verrà diretta dal signor Di Giovanni di Caserta.